Ben trovati a questo nuovo appuntamento con il Tg6. In apertura la pagina sindacale, partiamo dalla vertenza Atria a Teramo. C'è preoccupazione tra i 55 lavoratori che dovranno lasciare l'azienda perché licenziati se non ci saranno decisioni contrarie in merito. Il caso sta diventando nazionale. Ieri c'è stato anche l'arrivo di Landini, della FIOM, assieme a tutte le istituzioni locali davanti ai cangelli dell'azienda. La speranza è sempre quella di poter scongiurare i licenziamenti, anche se è una speranza che è ridotta davvero al lumicino. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. L'Atria di Teramo è un'azienda di sanitari in ceramica che vanta 50 anni di produzione. Una storia iniziata con la Villeroi e Boc e successivamente con la Spea. Oggi l'Atria appartiene ad un fondo di investimento americano, il Cobb Capital, che non sente ragione e il 18 ottobre licenzerà 55 lavoratori. La reazione dei dipendenti è quella di scioperare ad oltranza. Un caso che diventa nazionale con l'arrivo anche di Maurizio Landini davanti ai cancelli della fabbrica. Le istituzioni si schierano con i lavoratori, ma per il momento le speranze di salvare questi posti di lavoro sono pochissime. Landini ha detto che sicuramente sarà dura e bisogna comunque resistere e combattere. Si vincerà solo se siamo uniti e dovremmo resistere un minuto di più dalla proprietà per poter vincere e quindi uscire incendi. Per evitare i licenziamenti di chiedere ai lavoratori di mettersi tutti a part time. Vorrei che fosse chiaro che un lavoratore che sta a part time prende anche mezzo stipendio. Purtroppo questa proposta, che a me sembrava una proposta ragionevole, che si sarebbe potuto sperimentare per un periodo di tempo, a questa proposta l'azienda ha opposto un diniego. Vorrei precisare che questa proposta è stata una proposta che in altre aziende, secondo me è un po' più complessa dell'Atria, per esempio la Brioni, ha permesso di risolvere una vertenza molto più complicata, molto più impegnativa di questa. Ma è una battaglia persa secondo lei? No, non è una battaglia persa perché questa non è un'azienda decotta, tutt'altro. È un'azienda che ha una storia, questa provincia è un'azienda che ha una capacità produttiva notevole, che ha delle competenze dentro l'azienda notevoli, che ha aumentato il fatturato quest'anno, che negli ultimi anni, sicuramente per una crisi complessiva, ha avuto delle perdite, ma che in una situazione di rilancio può ripartire. Noi siamo qui per testimoniare non soltanto una preoccupazione per i lavoratori di Bellante, ma per i lavoratori dell'Atria. Notiamo purtroppo che anche a fronte di tante proposte che sono state fatte dalle rappresentanze sindacali, dalle istituzioni, c'è una chiusura abbastanza netta da parte dell'azienda. Questo ci preoccupa. Naturalmente resteremo qui a tutelare per quanto c'è possibile questi lavoratori fino all'ultimo. Se la proprietà dell'Atria non accetterà soluzioni alternative, il 18 ottobre si sapranno i nomi dei 55 licenziati. Saranno individuati secondo alcuni criteri, anzianità di servizio, carico familiare ed esigenze tecnico-professionali. Anzi, preoccupazione anche davanti ai cancelli della Honeywell di Atessa. Oggi potrebbe essere un giorno decisivo per l'avvertenza della multinazionale che in Abruzzo produce turbo compressori per l'automotive. Andiamo a vedere insieme il servizio. Giù le mani dal nostro futuro. E ancora, ministro Calenda, noi ci siamo, e tu? E poi vergogna, proprio all'ingresso dello stabilimento eccellente dei turbo, che adesso non serve più. Esprimono con gli striscioni i 400 lavoratori della Honeywell tutta la propria delusione nei confronti della multinazionale americana, per la quale hanno lavorato 25 anni e che improvvisamente li scarica, come una merce qualsiasi fuori dai cancelli di Via Ancona, nell'area industriale della Val di Sangro, quella dell'automotive tra le più importanti del paese. In attesa di conoscere l'esito dell'incontro tra il ministro dello sviluppo economico, il management francese della Honeywell e il vicepresidente della regione Abruzzo Lolli, i sindacati commentano la terza settimana di sciopero a oltranza, che aveva l'obiettivo di fermare la produzione delle fabbriche clienti. I segretari FIOM, FIM e WILM. Ma da un governo uno si aspetta sempre tanto. Nel corso di questi anni abbiamo maturato una consapevolezza, cioè che è meglio non aspettarsi tanto. Io spero che il ministro Calenda, in un certo modo, possa non solo far venire fuori la verità, ma spero che il ministro possa, in un certo qual modo, far tornare indietro questa azienda e quindi convincerla di elaborare un vero piano industriale di rilancio di questo sito. Mi aspetto che il ministro, dopo 18 giorni di sciopera, si renda conto della gravità e del rischio che stiamo correndo in questa vertenza. Io mi aspetto che questi lavoratori, questo stabilimento, questo territorio, questa regione, venga trattata come tutte le altre regioni d'Italia, nel senso che si confie un incontro con i legittimi rappresentanti dei lavoratori che siamo noi il sindacato e si cerca di trovare una soluzione. Non si può giocare sulla pelle di questi lavoratori, quindi il ministro non può dire che stiamo in sciopero e quindi non ci convoca. Ci aspettiamo delle risposte per quanto riguarda l'occupazione e al futuro di questo stabilimento, anche se l'operazione backup è in fase di conclusione, perché i dati che ci arrivano sono chiari, gli stabilimenti di FCA sono riforniti da Turbo che provengono da altri stabilimenti, a cominciare dalla Slovacchia e gli altri che sono i nostri fratelli concorrenti della ONU Validatista. Adesso ci spostiamo all'Aquila, nuovo assetto organizzativo per il Comune, nuove figure ma una maggiore razionalizzazione delle spese. Si partirà dal 1 gennaio 2018, il sindaco Biondi con gli assessori ha illustrato tutta la nuova macchina organizzativa in una conferenza stampa organizzata per questa mattina che andiamo a vedere con Daniela Rosone. Il Comune dell'Aquila avrà un nuovo assetto organizzativo dal 1 gennaio del 2018, assetto illustrato oggi dal sindaco Pierluigi Biondi, accompagnato in conferenza da gran parte dei suoi assessori. Una macro struttura decentrata e con una forte razionalizzazione del lavoro e delle spese i dipartimenti da tre diventeranno due, uno per i servizi al cittadino che includerà l'area amministrativa e contabile ed uno dedicato alla ricostruzione. All'interno dei settori ci saranno 21 posizioni organizzative e tre alte professionalità. Tra le posizioni organizzative una si occuperà di semplificazione e creazione del disability manager, una della mobilità sostenibile in base alle politiche della comunità europea e una dell'inclusione sociale. Il settore bilancio sarà diviso, un'area bilancio e programmazione per razionalizzare le spese e valorizzare il patrimonio e un'area si occuperà di equità tributaria, non solo tributi in sé ma anche riscossione dei canoni derivanti dal progetto case MAP. La ricostruzione pubblica, altra novità, sarà scissa dalle opere pubbliche. La prima si dovrà occupare di scuole, cimiteri, smart city, sviluppo gran sasso e altri aspetti. La seconda, di manutenzione. Alle dirette dipendenze del sindaco vi sarà poi una struttura di raccordo istituzionale che parlerà con uffici speciali, sovrintendenza, struttura di missione e altri attori. Saranno create due unità intersettoriali, una per progetti strategici e l'altra dedicata all'innovazione e alla digitalizzazione. Molto importante sarà il piano assunzionale. Innanzitutto, nove operai con contratti a tempo determinato saranno finalmente assunti. Il Comune assumerà anche un esperto di sismologia per gestire questi aspetti, due collaboratori per la gestione del protocollo e anche quattro vigili, visto che l'organico è sottodimensionato. Ma ci sarà anche una vera e propria riqualificazione del personale con progressione verticale, che non si faceva da anni, per valorizzare quei lavoratori che hanno dato tanto all'ente, non tanto per un aumento di stipendio, ma soprattutto dal punto di vista morale. Un progetto essenziale sarà anche quello della delegazione amica, che partirà con Paganica e Sassa. Molto del personale delle delegazioni, infatti negli anni, è stato trasferito nell'ufficio di Via Roma. L'obiettivo è non spogliare, ma dare alle delegazioni più servizi, in modo tale da farli diventare dei veri e propri sportelli di supporto ai servizi demografici. L'Abruzzo riceverà quasi 11 milioni di euro nell'ambito degli investimenti mobiliari previsti nel piano di impiego dei fondi INAIL per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Lo ha deciso questa mattina la Conferenza delle Regioni, approvando lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La somma proviene da un fondo complessivo di 100 milioni di euro. Le proposte progettuali presentate dalle Regioni dovevano privilegiare la realizzazione di nuovi edifici innovativi dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e sismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dalla apertura al territorio. Andiamo avanti adesso con il giornale. L'assessore regionale alla Sociale, Marinella Sclocco, ha illustrato l'esito del bando di prima infanzia e presentato i tre progetti. Risultati vincitori. Paolo Renzetti. Nuovi bandi per la prima infanzia, assessore Sclocco, sono arrivati quasi 2 milioni di euro dalle fondazioni bancarie. Sì, le fondazioni bancarie hanno fatto un protocollo d'intesa con il Governo e hanno messo a disposizione 12 milioni di euro in tre anni attraverso un avviso fatto dall'impresa sociale con i bambini, un avviso rivolto a tutto il territorio nazionale che appunto premiava con 12 milioni di euro progetti sperimentari per l'infanzia. Io sono felicissima perché all'Abruzzo, alle Marche, al Molise e all'Umbria sono stati destinati 3 milioni di euro, 1 milione e 9 l'ha vinto l'Abruzzo perché su 8 progetti, 3 progetti premiati sono della Regione Abruzzo, ricadranno nella Regione Abruzzo. La Regione Abruzzo è partner di tutti e tre i progetti, ma i tre progetti hanno un partneriato ampio. Ci sono delle associazioni che saranno le capofila, che ricadono su Pescara, su Chieti, su Bucchianico e su Teramo e sono veramente molto contenta perché i progetti sono assolutamente sperimentali, all'avanguardia e daranno una risposta davvero concreta sul territorio. L'obiettivo è quello di eliminare il più possibile la povertà educativa, culturale, sociale ed economica che colpisce le famiglie e quindi purtroppo anche i bambini. La Presidenza del Consiglio regionale promuove l'alta formazione dei giovani laureati abruzzesi in università estere di eccellenza. Attraverso singole convenzioni, gli Atenei abruzzesi riceveranno borse di studio per i loro studenti meritevoli in difficoltà economiche che abbiano già fatto richiesta di accesso ai corsi di formazione nelle migliori università internazionali. Sentiamo insieme il servizio. Il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio e il Professor Mario Rainone in rappresentanza del magnifico rettore dell'Università d'Annunzio hanno sottoscritto per pescare una convenzione finalizzata a consentire a giovani laureati abruzzesi la possibilità di maturare un percorso di alta formazione presso università straniere di eccellenza. Oggi per noi è innesima convenzione, oltre a quella dell'Università dell'Acri, dell'Università di Teramo che già abbiamo sottoscritto, completare questo giro con l'Università di Chieti Pescara. Lo sostiene in questa convenzione con 18 mila euro l'anno, per tre anni, per uno studente o due studenti meritevoli che accedono attraverso una selezione molto dura in istituti stranieri dove si fa alta formazione post-universitaria. Insomma, in istituti di eccellenza dove possono partecipare i nostri studenti eccellenti, i migliori, che lì apprendono, che lì hanno una formazione importantissima per poi far rientro da noi e condividere quell'esperienza con gli stessi professori universitari, con altri studenti, ma soprattutto con tutto il mondo produttivo della nostra regione. Adesso torniamo ad occuparci del nuovo stadio del Pescara, del progetto che è in discussione in città e lo facciamo andando ad ascoltare le parole dell'assessore all'urbanistica del Comune di Pescara Civitarese, che è stato intervistato da Paolo Lorenzetti. Sentiamo. Si continua a discutere tanto sul nuovo stadio di Pescara, assessore Civitarese, tanti pareri favorevoli, molti tifosi entusiasti, ma c'è anche qualche voce contraria come quella per esempio del Dipartimento di Urbanistica dell'Università d'Annunzio. Il Dipartimento di Architettura ha diramato un documento che prendo come un contributo alla discussione. C'è qualche imprecisione in questo documento quando si dice che abbiamo preso una decisione, non abbiamo considerato alternative. Su questo vorrei dire che intanto non abbiamo preso una decisione, ma stiamo studiando un'ipotesi che abbiamo voluto sottoporre alla città. Inoltre noi ci siamo occupati del problema della localizzazione di questa nuova grande infrastruttura che non è semplicemente lo stadio come si pensava un tempo. Questo è uno stadio del calcio che è una struttura complessa, che deve vivere per essere sostenibile sostanzialmente tutto l'anno e quindi ha una serie di servizi, funzioni anche commerciali, ma non solo commerciali, non è affatto un centro commerciale come a volte si dice, che lo rendono appunto una struttura complessa. Noi ci siamo posti il problema di capire dove potesse essere un luogo adatto a una struttura di questo tipo, posto che il luogo dove adesso lo stadio Adriatico, al di là del fatto che è un bene culturale e quindi non si può modificare più di tanto, è un luogo assolutamente inadatto a questo tipo di funzioni. Altri siti, si è parlato di spoltore mi pare, però è un sito che noi abbiamo considerato e abbiamo messo anche negli istruttori che abbiamo presentato, ci sono tavole su questo, ci sembra assolutamente inadatto per chi magari non è di Pescara, sostanzialmente di quella zona che è tra i colli e spoltore, dove c'è l'arca attualmente, quindi una zona già assolutamente centrale e piena di problemi dal punto di vista della mobilità e della circolazione. E quindi è un progetto complesso che prevede la partecipazione di soggetti finanziari, finanziatori che dovranno appunto assicurare la, come si dice, la bancabilità di quest'opera e quindi sono assolutamente non denaro pubblico che viene messo dalle casse comunali e quindi dai cittadini come forse anche è stato ventilato. Questo è un interesse del resto a questo punto di tutte le squadre professionistiche, stiamo parlando dei cosetti Stadi FIFA 2021. Adesso torniamo all'Aquila, esercitazione oggi per le unità cinofile della Guardia di Finanza estesa ai comandi di Lazio e Marche. I finanzieri a quattro zampe sono stati protagonisti nella ricerca di sostanze stupefacenti nel magazzino di un corriere aquilano. Il servizio. Terza esercitazione per le unità cinofile della Guardia di Finanza. La novità è che quest'anno la dimostrazione di efficienza è stata estesa anche ai comandi regionali di Lazio ed Umbria. Di buon mattino 11 finanzieri accompagnati dagli amici a quattro zampe all'opera all'interno dei magazzini del Corriere SDA, ispezione di plichi e corrispondenze per scovare la sostanza stupefacente. Presente è anche l'unità cinofila dei Carabinieri che ha eseguito la prima dimostrazione. Questa è la terza edizione regionale, però quest'anno è un po' diversa perché vengono anche dalle regioni limitrofe, quindi viene fatta una realtà operativa un po' differente e un'esercitazione un po' più allargata, misurandoci con altri cinofili, ovviamente cani, di regioni limitrofe, quindi dal Lazio e dall'Umbria. Qui all'SDA come si opererà? Benissimo, è una realtà operativa perché ci sono i pacchi, i cani cercheranno la sostanza stupefacente ovunque. Noi metteremo anche dei pacchi dove c'è della sostanza stupefacente, ovviamente c'è un livello di difficoltà molto alto, proprio per vedere la differenza tra un soggetto e un altro. Quante unità saranno impiegate in totale? 11 unità cinofile. C'erano anche due giudici per giudicare le prime tre unità cinofile di maggiore punteggio. Un'esercitazione molto importante che ha anche lo scopo di mostrare al pubblico il lavoro svolto quotidianamente dai finanzieri a quattro zampe, a salvaguardia delle vite umane e soprattutto dei più giovani, spesso esposti alle insidie degli stupefacenti. Un importante riconoscimento è arrivato per la ASL e l'ospedale di Pescara nel corso del Forum dell'Innovazione per il Progetto di Gestione Integrata del Diabete. Le linee guida regionali sul diabete sono state applicate dai 270 medici di base di famiglia della ASL e di Pescara collegati con il centro di diabetologia dell'ospedale di Pescara. Questo in tre anni ha arruolato, come diciamo, 4.000 persone. I vantaggi che si sono ottenuti sulla salute, sulla diminuzione di complicanze, sulla facilità di correzione della iperglicemia e l'evitarsi delle ipoglicemie sono stati significativamente evidenti e questo attraverso una piattaforma comune informatica che ha permesso ai medici di essere costantemente connessi tra loro e con il centro di diabetologia della ASL di Pescara, sito all'ospedale civile di Pescara. Questa messa in rete è quello che poi riduce, l'utilizzo di queste pratiche virtuose, riduce le complicanze del diabete. È opportuno che ricordiamo tutti che ormai il diabete non è più mortale per il coma diabetico o il coma ipoglicemico, per fortuna, ma si muore di complicanze. E' appunto nei confronti di queste complicanze che noi dobbiamo essere attivi e prevenirle. E adesso andiamo a Lanciano. È stato stilato il bilancio del settembre lancianese. Andiamo a vedere i numeri della manifestazione nel servizio. Feste di settembre 2017, un successo oltre ogni aspettativa con il presidente Maurizio Trevisan che ci riprova anche l'anno prossimo. È stato tracciato in conferenza stampa dunque a Lanciano il bilancio delle feste patronali in onore alla Madonna del Ponte che ha visto oltre 50 appuntamenti in cartellone. Come tradizione si è iniziato con gli spari di Mortaretti il 29 agosto per l'apertura della novena in onore della Santa Patrona della città. Il 31 agosto si è svolta la storica fiera del giocattolo intitolata a Sant'Egidio, poi di nuovo gli spari da sopra la Torre Civica il primo di settembre a segnare l'apertura delle feste con lo sventolio della bandiera che indica il tempo durante le giornate clou. 13, 14, 15 e 16 settembre quest'anno coccolate dal cielo sereno che ha favorito nel fine settimana l'afflusso di spettatori ai concerti dei big. Due ali di folla in corso Trento e Trieste hanno fatto da cornice l'8 settembre alla caratteristica sfilata del dono alla Madonna del Ponte con tanti bambini ad animare il corteo. E infine i fuochi d'artificio, le luminarie targate paulicelli e i concerti in piazza Plebiscito di Dodi Battaglia e Alex Britti che hanno richiamato una moltitudine di persone come non se ne vedeva da tempo. Numeri a tre cifre per il bilancio finanziario del Comitato che parla di 170 mila euro di spese sostenute e quasi altrettanti di introiti con 165 mila euro incassati attraverso gli sponsor La Questua, Lotteria, Fiera, Giostre, Comune di Lanciano. Cifre lontane dai fasti di una volta ma la crisi si sa colpisce soprattutto il superfluo significativo il taglio dell'amministrazione comunale con il contributo ridotto a 10 mila euro ma il prossimo anno ci sarà un aumento promette il sindaco Mario Pupillo. Andiamo avanti adesso nell'ambito della quinta giornata europea delle fondazioni porte aperte alla Fondazione Pescara Bruzzo la manifestazione è stata dedicata al ruolo delle comunità educative nell'accompagnamento dei giovani verso l'età adulta del servizio di Vestina News. Si è svolta ieri presso la sede della Fondazione Pescara Bruzzo in concomitanza con il 25esimo anniversario della Fondazione la quinta giornata europea delle fondazioni promossa da ACRI, Associazione Fondazioni Casse di Risparmio in collaborazione con DAFNE, Donors and Foundation Network in Europe. Dal titolo è una questione di educazione, comunità e crescita delle nuove generazioni dedicata al ruolo della comunità educativa nell'accompagnamento dei giovani nell'età adulta e propri ragazzi sono stati protagonisti con il progetto Multimedia School dell'Istituto Comprensivo di Spoltore e con la mostra progetto Easy a Pescara Design dove per entrambi la fondazione è stata finanziatrice. Questa è stata l'occasione per il segretario generale Nicola Mattoscio per fare il punto della situazione sulla fondazione. C'è la cornice della giornata europea delle fondazioni e c'è il tema preferito quest'anno diviso con l'ONU che richiama le attenzioni dell'opinione pubblica e delle istituzioni sulla delicatissima attività formativa delle future generazioni. Relativamente alla celebrazione dell'anniversario della fondazione cioè del 25esimo anniversario, voglio sottolineare che la fondazione è nata con un patrimonio limitatissimo di circa 70 milioni dopo 25 anni è un patrimonio complessivo tra quello netto e fonti di riserva di circa 250 milioni. Abbiamo erogato in questo arco di tempo oltre 72 milioni a favore del territorio della nostra comunità e ci sono risultati che sono sotto gli occhi di tutti importantissimi che senza il nostro sostegno e la nostra responsabile attività istituzionali non sarebbero state nemmeno immaginabili. Ed ora apriamo la pagina dello sport. Iniziamo dal calcio di Serie B con il Pescara, è tornato su ottimi livelli. Il centrocampista Mohamed Koulibaly parla di come Zeman lo stia migliorando. Glissa però sul futuro passaggio all'Udinese, dice Pescara, è e resta per adesso la mia squadra. Sentiamolo nelle sue parole in conferenza stampa. È quando sono arrivato in Italia che ho iniziato a giocare il calcio vero, quindi per forza devo migliorare tutto, tutto, ma sul piano tattico, sul piano tecnico, tutto. Io cerco sempre di migliorare perché non sono ancora perfetto, non sarò mai perfetto. Con Zeman mi ha fatto migliorare tanto mentalmente, fisicamente, perché in primavera non è come in prima squadra. In primavera giocavo come volevo, mi giravo come portavo la palla, nessuno poteva prendere. Però in prima squadra ritrovi la gente che sono più maturi di te, che hanno fatto tanti anni di Serie B, Serie A, tutto. E quindi io cerco sempre di fare il mio dovere in campo, di aiutare la squadra, di fare tutto quello che devo fare. Devo andare sempre davanti, devo cercare sempre di migliorare, di fare bene sempre in campo. Le critiche si stanno sempre, un giocatore deve aspettarsi di questo. Mi trovo bene, so che il mister mi sta aiutando tanto, mi sta a far crescere tanto sul piano tattico. Io cerco sempre di fare quello che dice lui, ogni tanto mi posso sbagliare, però cerco sempre di fare quello che vuole lui. Ho ritrovato quello che volevo fare da piccolo, a vedere la tv, come giocavano i giocatori, tutti. Io mi volevo vedere pure ogni giorno quando ritorno a casa, io registro le partite e io mi rivedo a casa. È una cosa che ho sempre voluto. Io per ora sto pensando alla mia squadra, la mia squadra è Pescara ora. Devo fare quello che devo fare con Pescara, dopo Udinese, Udinese. In Serie C si è giocata la settima giornata di campionato allo stadio Bonolis, incontro fra il Teramo e la Feralpi e Salò. Andiamo a vedere come è andata nel servizio di Andrea Costantini. È finita senza gol al Bonolis la gara infrasettimanale tra Teramo e Feralpi e Salò per i biancorossi di Antonino Asta. Il secondo pareggio interno consecutivo, Teramo che come nell'attesa della vigilia ha cambiato a setto, 3-5-2, dunque difesa a tre con in attacco sumare a sostegno di Foggia. Teramo che ha sofferto nel primo tempo, soprattutto nell'ultima parte della prima frazione, ha sofferto il palleggio della squadra Salodiana, che è andata vicina al gol, in particolare con Guerra e con un autopalo di Caidi. Molto meglio il Teramo nella ripresa, Piglio decisamente più autoritario per la squadra di Asta, che ha cercato anche i tre punti e li ha anche sfiorati con alcune occasioni, soprattutto nel finale, con un tiro dal limite di Sales e una conclusione di Bacio Terracino, autore di un pregevole 1-2 con Barbuti. Finisce dunque 0-0, ascoltiamo la voce del vice allenatore del Teramo Zichella e del tecnico della Feralpi Salò, Serena. Diciamo che abbiamo fatto un tempo a testa, il primo tempo qualcosina loro in più, il secondo tempo molto meglio noi, specialmente nel finale ci abbiamo creduto, ci speravamo, però penso che alla fine il risultato di parità sia giusto. Diciamo che noi siamo scesi in campo con una squadra molto più giovane e questo, insomma, dobbiamo essere fieri. E' mancato qualcosa in zona gol, evidentemente, o l'ultimo passaggio, o proprio la conclusione? È un momento che gira così, capiterà alcune gare, come speriamo di giocarle meno bene, farai mezzo tiro in porta e farai gol. In questo momento abbiamo tante occasioni, tanti tiri e in due pari di zero gol, però io vorrei evidenziare che sono due partite che la squadra non subisce gol. E per una squadra che si deve salvare è tanto. In settimana, in questi due barra tre allenamenti abbiamo lavorato sulla difesa tre, mi sembra che siamo andati anche abbastanza bene, è rischiato il giusto, ma non tanto per i nostri errori, ma più che altro per bravura anche degli avversari. Sono convinto che loro, oltre ai due attaccanti che hanno giocato, hanno in panchina due barra tre attaccanti che in qualsiasi squadra farebbero la differenza. Quindi i difensori, secondo me, si sono comportati più che bene. Per un buon primo tempo da parte vostra, poi nel secondo tempo avete sofferto un po'. Sì, l'ho già detto, per cui all'analisi della gara noi all'intervallo dovevamo sicuramente essere con un risultato diverso e probabilmente, anzi quasi sicuramente, la partita sarebbe stata totalmente diversa anche quella che abbiamo visto nel secondo tempo. Poi ha vissuto questa sorta di derby con Asta, visto che lo scorso non ne ha preso il posto, come è stato ritrovare quello che è stato il suo predecessore? No, io derby da allenatore non ne ho con nessuno, per cui questo fa parte del nostro mestiere. Abbiamo la valigetta, quando ci mandano via prendiamo la nostra valigetta e andiamo a cercare di lavorare da qualche altra parte. E' successo a lui, è successo a me, è successo a tutti ormai, perché è quasi prassi, per cui fa parte del mestiere, altrimenti dobbiamo decidere di cambiarlo, mestiere. E' tutto per questa edizione del TG6, prossimo appuntamento alle ore 23, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.